Il socialdemocratico Scholz non sta nella pelle. Si sente già cancelliere. Il cristiano democratico Laschet ci sta rimettendo la pelle. Crolla nei sondaggi e i bavaresi vogliono sostituirlo. La verde Berbock è accusata di cambiare pelle pur di entrare nel governo. Il liberale Lindner fa capponare la pelle a chiunque non sia devoto del neoliberismo. Le elezioni tedesche ridisegnano il Bundestag su quattro partiti. SPD, CDU, Verdi e Liberali, mentre le ali estreme, Linke a sinistra e AFD a destra, si afflosciano. La coalizione di governo più gettonata è SPD, Verdi e Liberali, ma anche il partito che è stato della Merkel cerca di restare in gioco, proponendosi a Verdi e Liberali, che sono al centro del dibattito. Possono coabitare in un governo? Pescano nello stesso elettorato e hanno posizioni simili su diritti umani e uguaglianza di genere, ma non su economia e sociale. I Verdi vengono dalla sinistra, ma virano al centro, dice qualcuno, e sono i grandi sostenitori della svolta ambientale. Vogliono una Germania senza carbone e la vogliono subito. I liberali non hanno fretta, rappresentano i grandi gruppi, specie finanziari, guai ad aumentare tasse e debito pubblico. E questo è un problema per l'Europa, soprattutto per paesi come il nostro. Ecco perché c'è chi confida ancora nella grossa coalizione socialdemocratici cristiano-democratici, l'usato sicuro per i tempi nuovi.